Trevor ha dichiarato che il Bridgeworm ha cazzo, o più grande, in un'immagine si può chiaramente vedere un cazzo, o gigante eco. Il modus operandi della bestia consiste nel star sempre in un luogo ben definito, una pila di materia fecale e acida, attesa della sua prossima vittima. La caratteristica interessante è che i Bridgeworms hanno un ciclo vitale molto simile al nostro, suddiviso in tre fasi, o se preferite, età. Infanzia. Infanzia. Piedi. Una pila di materia fecale e acida. Una versione ufficiale della forma adulta venne comunque pubblicata su Twitter. In questo caso le braccia sono presenti, e il volto è questo vermone bianco. Se non riescono a trovare una preda con cui sfamarsi, molti si restringono fino a 925 chilometri o a me. Non è possibile sapere se il Bridgeworm può essere catturato o ucciso a piedi o ucciso a cazzo, o dai 40 ai 50 metri, a seconda della loro fame. E' meglio stare alla larga da piedi. Piedi.